Ok signori, adesso ne impariamo una nuova sulla scuola e impariamo che cosa non è vero di quello che sappiamo sul mondo della scuola, ovvero che gli insegnanti hanno tre mesi di vacanza o di ferie all'anno, più le vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua, vari ponti eccetera eccetera. Allora, uno, un insegnante di ruolo di scuola secondaria superiore di secondo grado, quindi dei superiori, licei, gli istituti tecnici, quello che si vuole, ha un monte ferie di 34 giorni all'anno, 34 all'anno. Li deve, quindi è obbligato, è obbligatorio, li deve usufruire nei momenti in cui non c'è lezione, non c'è didattica. Durante la lezione e la didattica può eventualmente, se glielo concedono, usufruire di un massimo di sei giorni di ferie. Questo è quanto riguardo alle vacanze di Natale, riguardo alle vacanze di Pasqua, alle vacanze estive. Allora, intanto, in estate, tre mesi, non so dove la gente lo abbia sentito dire, da dove se lo sia cavato dalla testa probabilmente, perché, boh, forse gli esami di Stato li fanno i genitori, forse gli esami di riparazione li fanno i genitori, forse gli scrutini li fanno i genitori, forse le riunioni successive propedeutiche al nuovo anno scolastico, quello che comincerà a settembre, le fanno i genitori. Se un dirigente scolastico decide che i docenti rientrano perché devono fare, si vede il caso, il collegio docenti, il 27 di dicembre, i docenti prendono e vanno. E come se vanno? Perché l'unica cosa che non deve fare il docente durante le vacanze di Natale e di Pasqua è lezione, perché le lezioni sono sospese. Per il resto, non è come pensate voi. Fatevene una ragione e vedrete che starete meglio.